Swyte ti consente di personalizzare l'aspetto grafico del tuo sito web. In questo video ti mostrerò come cambiare lo sfondo, modificare il tema e lo stile. Una volta logato a Swyte accedi alla gestione del sito. Clicca su modifica sito e poi su sezioni. Per tutti i temi Swyte permette di personalizzarne lo sfondo, vale a dire la foto più grande nella parte superiore di ogni pagina del sito. Dalla finestra che appare sulla destra abilita la sezione copertina. A questo punto puoi modificare l'immagine di sfondo della sezione copertina. Per farlo clicca sul pulsante sfondo presente in alto a destra. Dal menu che si apre hai la possibilità di caricare una foto di sfondo manualmente. Modificare la foto caricata. Scegliere da quale dei social collegarti e importare l'immagine di copertina nel caso in cui non si intenda caricarla manualmente. Riposizionare la foto. Modificare l'altezza della copertina. Oppure applicare un filtro all'immagine. Clicca su salva per rendere effettive le modifiche. Bene, dopo queste modifiche in realtà il tema del tuo sito è sempre modificabile. Ricorda però che cambiare il tema modificherà l'aspetto grafico del tuo sito. Una volta scelto il tema da utilizzare per il tuo sito, dalla barra del menu presente in alto clicca su temi. Ogni tema poi ha le proprie caratteristiche grafiche. Prima di effettuare cambiamenti di questo tipo ti suggerisco di controllare l'anteprima del tema cliccando sul pulsante mostra anteprima che compare su ogni tema. Clicca su scegli tema per impostarlo. Clicca su salva per applicare le modifiche. Per modificare il colore disponibile per alcuni temi dalla barra del menu presente in alto clicca su stile. A seconda del tema che hai scelto avrai a disposizione una serie di colori da selezionare e cambiandoli potrai vedere in tempo reale come si modifica il tuo sito. Infine clicca su salva per applicare le modifiche.